È un'iniziativa totalmente gratuita, con un onere che i proprietari assumono perché aprire un archivio è una cosa complessa, richiede attenzione, richiede custodia, richiede il governo dei visitatori. È un'iniziativa di cui tutte le informazioni sono sul nostro sito www.associazionadiamorestoricaitaliane.it dove è possibile prenotare le visite, anzi raccomandiamo di prenotarle perché chiaramente negli archivi non possiamo avere grandi flussi di persone, ma gruppi limitati, ma ci saranno più turni di visita, l'importante è registrarsi anche per sapere chi entra in questi luoghi che custodiscono una storia secolare, per non dire millenaria, perché i nostri soci hanno archivi che arrivano dall'anno 1000. Il nostro tema poi non è solo guardare al passato, ma come dice il titolo della manifestazione, guardare anche al presente e al futuro, perché noi viviamo o viviamo inconsapevolmente la nostra storia, noi siamo figli della nostra storia, ma non siamo in grado, non valutiamo consciamente quanto questo influisca il nostro presente e possa influire il nostro futuro. Riusciamo ad aprire 113 archivi, un numero impressionante in tutta Italia e vogliamo spiegare, mostrare come questi documenti, come queste carte non sono solo documenti del passato, ma è attraverso questi documenti che si sono stabiliti per esempio relazioni tra aree geografiche italiane che una volta appartenevano a stati diversi, ma che sono anche il fondamento di quella che è la nostra Unione Europea attuale, perché le relazioni commerciali nascono molti secoli fa e quindi come questa storia ha condizionato il nostro presente e che se nota e conosciuta possa condizionare in meglio il nostro futuro.